Sì, c'è la garella, facciamo proprio i numeri. Non so perché c'è il cazzo, mi è arrivato. Lo fitti, lo fitti o? Sta arrivando un'altra adesso, quello qua. Vieni verso l'ambulanza, vieni verso l'ambulanza. Vieni verso l'ambulanza, vieni verso l'ambulanza, vieni verso l'ambulanza. Vieni verso l'ambulanza. Non davanti. Vieni verso l'ambulanza. 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 Vieni verso l'ambulanza.